Parte la corsa di Cinziaferri verso il terzo mandato a sindaca di Montelabate. Un'avventura amministrativa iniziata nel 2014 con il Movimento 5 Stelle e che dopo dieci anni riparte sotto il segno della lista civica Cinziaferri sindaco. Inaugurata in Via Verde, a Osteria Nuova, la sede di una lista elettorale composta prevalentemente da persone che non appartengono al Consiglio Comunale uscente. Una lista formata da tante persone che qualcuno ha già avuto esperienza nell'amministrazione comunale, qualcun'altra no, ma persone semplici, alla portata di mano di tutti i cittadini, pronti ad accogliere le richieste e le esigenze che ancora dobbiamo andare a sopperire, volenterosi e soprattutto disinteressati. Non hanno interessi personali da poter attingere nell'amministrazione comunale ed è questa la nostra carta vincente. Ho voluto questo gruppo fortemente, chiamandone uno a uno, perché sono persone socievoli, allegre, intelligenti, capaci e soprattutto che hanno voglia di fare gruppo, perché noi è questo quello che vogliamo fare, gruppo per accogliere le richieste e le esigenze dei cittadini. Dopo dieci anni di amministrazione che abbiamo già fatto tante cose, c'è ancora tanto da fare, non lo nascondiamo, e soprattutto adesso possiamo concentrarci su altre cose, su altri obiettivi. In questi dieci anni ci siamo concentrati sulla scuola e sulla sicurezza del territorio. Adesso possiamo dedicarci a tantissime altre cose che però vi diremo un pochino più avanti.